Si va verso l'adunata nazionale di maggio e sono iniziati gli allestimenti. La città vestita di tricolore con le bandiere affisse ai piloni dell'illuminazione a partire da Viale Mazzini, a Viale Dalviano, a Viale Trento per poi colorare tutti i quartieri. 26.000 bandiere tricolori saranno posizionate su tutte le vie della città di fatto a colorare di tricolore la città di Vicenza. Giorno dopo giorno la città sarà vestita a festa e ad un mese esatto dal grande evento l'invito degli alpini è quello a contribuire esponendo alle finestre e ai balconi le bandiere con l'obiettivo non solo di dare un colorato benvenuto alle 400.000 persone attese nella tre giorni di adunata ma anche di rendere omaggio ai valori per i quali gli alpini hanno combattuto e per i quali oggi si prodigano. Abbiamo cominciato in questi giorni a bandierare la città e chiediamo a tutti i cittadini di Vicenza di andare a ritirare le bandiere presso le sedi degli alpini e Piazzo Folco bandiera che è di queste dimensioni per poterla mettere nelle vostre finestre per dare un'immagine di Vicenza che sia il più tricolore possibile questo è l'invito che facciamo a tutti i cittadini vicentini.